Punta dritta il suo obiettivo. E all'ultimo svela la sua arma segreta. Le chele a martello. Queste clave caricate a molla colpiscono 50 volte più velocemente di un battito di ciglia. L'energia del colpo crea un'onda d'urto che danneggia ulteriormente il guscio della vittima. Questo animaletto non avrà dimensioni impressionanti ma dispone di un potenziale offensivo a dir poco sorprendente. Grazie.